c'è silvio è il silvione cosa amore la lucertola c'era ma che bella ma che bella no non l'ho vista amore oggi fedez dopo aver convinto il cagnolino silvio a salire sul van è arrivato al lago di como con i suoi figli la destinazione è stata la villa matilda una proprietà di 350 metri quadri distribuiti su tre piani acquistata dai ferragnez nel 2023 per 5 milioni di euro attualmente la villa rappresenta un punto cruciale nella separazione della coppia e il destino della proprietà rimane incerto nonostante ciò fedez ha deciso di trascorrere del tempo con i suoi figli e il cane silvio in questa splendida dimora questo momento di serenità e famiglia sembra essere un rifugio per l'artista in attesa che le questioni legali sulla villa vengano risolte la giornata al lago è stata un'occasione per fedez di godere della tranquillità e del tempo prezioso con i suoi cari allontanandosi momentaneamente dalle tensioni della separazione